Prima della benedizione della Santissima Trinità voglio dare una comunicazione che riguarda il professor Giuseppe Lazzati che dell'Università Cattolica fu studente dal 27 al 31, docente dal 1939 e magnifico rettore dal 68 all'83. Come certo sapete nel 91, 5 anni dopo la sua morte, come prescritto dalle norme canoniche, l'Istituto Secolare Cristo Re e il professor Lazzati fondò nel 1939 con il consenso convinto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Azione Cattolica di cui fu presidente diocesano della gioventù dal 34 al 45 e presidente della giunta diocesana dal 64 al 67, dicevo che l'Istituto Secolare Cristo Re chiese al mio predecessore, il cardinale Carlo Maria Martini di introdurre la causa di beatificazione e di canonizzazione di Giuseppe Lazzati. Elaborata la posizio con la preziosa opera del compianto dottor Armando Oberti, essa fu sottoposta prima all'esame della Commissione Teologica, il 7 ottobre del 2011, poi a quello della Commissione dei Cardinali e dei Vescovi della Congregazione della Causa dei Santi, il 4 giugno 2013 e fu infine presentata a Papa Francesco, il quale lo scorso 5 luglio ha autorizzato la pubblicazione del decreto con il quale si riconosce che Giuseppe Lazzati, laico consacrato, ha vissuto in modo singolare, tecnicamente si dice eroico, tutte le virtù cristiane e pertanto può essere usato per lui il titolo di venerabile. Ormai manca solo un miracolo ottenuto per sua intercessione, perché Giuseppe Lazzati possa essere dichiarato beato per la Chiesa. Ringraziamo il Signore per questo nuovo dono che egli fa alla Chiesa ambrosiana. Con il decreto di Papa Francesco, che dichiara Giuseppe Lazzati venerabili, si aggiunge un altro tassello, dopo quelli del beato Contardo Ferrini e dei venerabili Lodovico Necchi ed Armida Barelli, al mosaico di santità che l'Università Cattolica va componendo nella sua storia preziosa per la Chiesa e la società italiana, fedele alla missione affidatale da Achille Ratti, che l'ha inaugurato il 7 dicembre del 21, poco prima di diventare Papa Pio XI, ricordando, cito, che l'Università Cattolica vuol dire che Università Cattolica vuol dire il connubio della fede e della scienza fatto viva e feconda realtà. La riconoscenza della diocesi va oggi all'Istituto Cristo Re, qui rappresentato dal suo Presidente, Dottor Giorgio Mazzola, e a quanti istituzioni, Associazione Culturale Lazzati, Fondazione Lazzati, Città dell'Uomo, Azione Cattolica, e fedeli, in particolar modo nipoti, familiari e parenti, continuano a mantenere viva la figura del venerabile Giuseppe Lazzati. Prego ora al Professor Giorgio Confalonieri, postulatore della causa di beatificazione del venerabile Giuseppe Lazzati, di dare lettura, in traduzione italiana, del decreto Super Virtutibus, promulgato il 5 luglio 2013, a firma del Signor Cardinale Angelo Amato, prefetto, e di Sua Eccellenza Monsignor Marcello Bartolucci, segretario, dalla Congregazione per la Causa dei Santi, su mandato di Papa Francesco.